E' accusato di omicidio volontario Gianni Pacello, il 22enne di Sassano, paese in provincia di Salerno, che ieri con la sua BMW è piombato sui tavolini di un bar uccidendo quattro giovani, tra i quali suo fratello. Secondo quanto si apprende dai carabinieri, l'accusa è stata formulata all'alba dalla procura di Lago Negro. Secondo le analisi, il giovane, al quale è stata già ritirata in passato la patente, era ubriaco. Nell'impatto sono morti due figli del titolare del locale Club 2000, Nicola e Giovanni Femminella, di 22 e 16 anni, e due loro amici, il fratello del conducente dell'ABMV, Luigi Pacello, 15 anni, ognomonimo, non parente, Daniele Pacello, di 14. Commozione sul luogo della tragedia. Certo, è triste, ma soprattutto è triste per i ragazzi che non ci sono più, dei bravi ragazzi che li ho avuti a scuola, quindi sono dei ragazzi imbreggiabili, vedevano la partita, così trascorrevano il pomeriggio qui a scuola. Ah, sì, non c'è altro, non c'è altra possibilità di poter divertirsi diversamente. E ai miei occhi ancora appaiono questi ragazzi a terra. Adesso il dramma è delle famiglie. Le famiglie, non solo di quelli che hanno perso direttamente i figli, ma anche di quelli del conducente, che a sua volta ha perso l'altro figlio, ed è causa del primo che è successo tutto questo. Però, chissà, sarà stato il destino, sarà stato qualcosa, non lo so, non lo so. Sono ragazzi vivaci, erano ragazzi vivaci, intelligenti e tranquilli. Non c'erano possibilità di dire diversamente, anche perché hanno subito questa in mano tragedia. E' un dispiacere per tutti. Anzi, è che io, dico la verità, lo tenevo come figlio, io venivo tutte le sere a prendere il caffè. Ieri sera, per sfortuna, che ci poteva capitare anche io, che mi sentiva sempre qui davanti al bar. Conosceva bene i ragazzi allora? Lo conoscevo molto educato, molto educato. No, quello che ha fatto l'incidente, quello non lo conoscevo neanche. i poveri bambini del bar, che uno, il più grande, ha fatto la scuola con mia nipote. Mia nipote ieri sera lo piangeva come un fratello. Sì, stiamo andando a partire, dopo due o meno cinque minuti abbiamo visto una tragedia. Prima la signora ha detto che c'era una signora morta a terra, poi è venuto il giornalista, Rosario Lobosco, e dice che ci sono quattro morte a terra. Adesso siamo scappati, abbiamo visto dei ragazzi che ho cresciuto, che ne conoscevano. Uno sta vicino a casa mia, stava proprio Daniele, l'altro a terra, l'altro dietro, che dormivano come dei cagnolini. La stessa c'erano i carabinieri, l'autobolante, i primi soccorsi. Piangevamo tutti. E si può dire... ... E si può dire...